Gentili spettatori, buonasera. Sono Alessandro Longobardi ed ho il piacere di annunciarvi la nuova campagna di Africa Sea Onlus. Anch'io vado a scuola, diritto allo studio. Il Teatro Brancaccio e la Salomberto insieme sostengono questo nuovo impegno per la scolarizzazione di 240 studenti dai 4 ai 16 anni della comunità di Psi in Nairobi, Kenya. La loro responsabile, Alessandra Tiengo, insieme ai suoi collaboratori, tutti giovani e molto tenaci, ci pongono, come nella passata stagione, un obiettivo di raccolta di 17.280 euro. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo sostenuto la campagna raccolta alimentare e grazie alla vostra generosità abbiamo raggiunto in tempi molto rapidi l'obiettivo. Vi invito a ritirare il pieghevole con tutte le informazioni e a donare 2 euro. Con soli 2 euro potrete fare molto per questi piccoli uomini del futuro. Grazie per la vostra attenzione e buon teatro a tutti. Grazie per la vostra attenzione e buon teatro a tutti.